Ciao a tutti e ben ritrovati dopo tanto tempo. Sono stata via in queste settimane da YouTube perché praticamente, finalmente, dopo due anni ho tolto i mezzi di sintesi dalla gamba, questa qui, la gamba sinistra. Come forse alcuni di voi ricordano, due anni fa mi ero rotta la gamba a Pasquetta durante una passeggiata. Non era neanche una stradina tanto, non era ripida. In realtà sono stata sciocca io perché mi sono voltata, c'era la ghiaietta, volevo dire a mia mamma di stare attenta di non scivolare, sono scivolata io e mi sono rotta tibia e perone tutto quello che potevo rompere. Ed è stato veramente lunghissimo perché sotto Pasqua poi non operavano mai, c'erano sempre cose più urgenti di me, poco personale. Ho aspettato tantissimo in ospedale per l'operazione, ma poi, insomma, sono guarita bene. Però avevo i ferri ancora nella gamba e dato che magari sono cose che purtroppo succedono in giro, volevo condividere la mia esperienza con voi. Se magari qualcuno adesso si è rotto la gamba ed è in dubbio se togliere i ferri o no, vi racconto la mia storia e così avete qualche elemento in più per decidere sì o no. Allora, la gamba poi è guarita bene, riuscivo a camminare, a fare la maggior parte delle cose, però con il tempo mi sono accorta che non riuscivo ad appoggiare il ginocchio per terra perché mi faceva malissimo. Pensavo che fosse magari la ferita ancora da guarire bene, però passavano i mesi e proprio non riuscivo, ok? Non è che uno si inginocchia spesso per terra, però con i gatti dovrei prendere le cose sotto il letto, sotto il divano, insomma, va sempre bene potersi piegare senza problemi. E dopo, quando toccavo qui in parte dove c'erano i ferri, i perni, non so come si dica, sentivo male, cioè mi faceva male e ogni tanto sentivo proprio fastidio anche, non era proprio dolore, era fastidio, però pensando, formando tutte queste cose insieme ho pensato se sono passati solo due anni e già sento queste cose, quando sarò anziana sarà peggio, cioè se devo intervenire è meglio intervenire subito, però avevo anche i miei dubbi perché comunque è sempre un'operazione e avevo paura che qualcosa andasse male, insomma c'erano, anche io ero molto indecisa, ho fatto un sondaggio, ho chiesto in giro, che dopo un anno e mezzo dovevo fare i raggi, un'altra visita di controllo, ho chiesto al dottore e lui ha detto ma sì dai possiamo farlo, appunto perché magari da anziana dovrò operarmi il ginocchio oppure potrei avere altri problemi ed è se da fare è meglio farlo subito e così mi ha messo in lista d'attesa. Passano i mesi, non succede niente, ho detto boh, magari alla fine mi hanno depennata perché non ero così urgente e con i tempi che corrono e la sanità strapiena di lavoro e tutto, io mi avranno tolta e faranno dei lavori più importanti del mio, fatto sta che tipo due mesi fa, un mese e mezzo fa, invece mi telefonano per fare la visita pre ricovero a Palbanova, io invece ero stata operata qui a Udine, allora vado a fare la visita pre ricovero, io non mi hanno saputo dire quando sarebbe stata l'operazione, mi avrebbero chiamata e anche lì passano le settimane, non succede niente, ho detto boh, vabbè, mi metto il cuore in pace, il destino vuole che io non faccia quest'operazione e da un lato ero anche sollevata. Quando ormai non ci pensavo più, mi arriva la telefonata da Palbanova che dopo due settimane mi avevano messo in programma il mio intervento e mi avevano dato anche due settimane di tempo, avevo paura che mi chiamassero tipo fra tre giorni vieni che ti operiamo e io non potevo avvisare al lavoro che già si erano scorciati perché sarei stata poi un po' a casa e via dicendo. E arriva il giorno, mi hanno operato venerdì e praticamente doveva essere un day hospital, mi hanno dato la carta del day hospital, vado a Palbanova e devo dire che da subito ho trovato un clima completamente diverso da Udine, sarà perché non ci sono le urgenze, perché riescono a programmare tutto meglio, ma erano molto molto cortesi, gentili, fin dall'accettazione e dalla preparazione all'operazione. Mi hanno fatto l'iraggio al mattino e però poi mi hanno operata nel pomeriggio e quindi poi alla fine mi hanno tenuta lì una notte in osservazione perché mi hanno operata tardi e io sono stata anche contenta perché almeno mi hanno controllata una notte intera, magari se c'era qualche problema poi mi davano qualche antidolorifico. Devo dire che non ho avuto male, mi avranno dato qualcosa di forte e anche durante l'operazione è andato tutto bene e sono stati veramente bravi a farmi stare tranquilla e a non agitarmi. Insomma è stata devo dire una bella esperienza, devo dare 5 stelline lì su Google all'ospedale di Palbanova e così poi sono tornata a casa, potevo già appoggiare la gamba per terra e comunque mi dovevo aiutare con due stampelle perché mi faceva male soprattutto piegare il ginocchio. Se stavo ferma a letto non sentivo niente, non mi faceva male niente, quando però dovevo piegare il ginocchio si sentivo male, per i primi due giorni questo. Poi ogni giorno che passava mi svegliavo al mattino e stavo meglio, cioè notavo veramente tantissimo la differenza da un giorno all'altro e devo dire che nel giro di pochissimo tempo per andare in bagno, per spostarmi da una stanza all'altra, ho usato subito una stampella e poi anche senza stampelle andavo via benissimo. Cioè è stata una ripresa velocissima, dovevo solo appunto fare i movimenti con cautela perché mi faceva un po' male il ginocchio ma sempre meno giorno dopo giorno e praticamente mi hanno detto che per la prima settimana dovevo tenere la gamba scarica, quindi mi spostavo ma la tenevo sempre alzata qui sul divano oppure nel letto e stavo attenta a non affaticarla e poi pian piano cominciare a camminare sempre, cioè a tornare una vita normale ecco. Però devo dire che è stato bene, mi hanno dato due settimane da stare a casa, che è stato un bene perché anche stare seduta così dopo tipo mezz'ora mi dava fastidio e sentivo la necessità di tenere stesa la gamba. Comunque come dolore vi assicuro che avrete male, almeno io ho avuto male solo veramente due giorni dopo, ma male solo se mi spostavo, poi prendevo la tachipirina, di notte ho sempre dormito bene e adesso sono passate tre settimane, questa che ho passato adesso è la prima settimana che sono tornata al lavoro e devo dire che sono tornata a fare le cose normalmente, è stato veramente difficile tornare al lavoro perché a stare seduta 8 ore lì sulla scrivania così, con la gamba giù, il primo giorno è stato terribile, mi alzavo sempre, facevo finta di andare in bagno per fare due passi perché si sentivo proprio la necessità di stendere la gamba, ma poi giorno dopo giorno purtroppo mi sono tornata a abituare alla segregazione del computer e venerdì era già quasi tutto normale. Adesso ancora, poi dopo due settimane sono tornata a Palmanova che mi hanno tolto i punti e durante queste due settimane che sono rimasta a casa, tipo 8-9 giorni dopo, mi era venuto fuori un ematoma sul polpaccio e avevo anche due linee di febbre, quindi mi ero un po' preoccupata e avevo telefonato all'ospedale e mi avevano detto di andare un giorno dopo a fare un controllo, anche se era una reazione normale, insomma comunque hanno detto meglio un controllo in più che uno in meno, sono gentilissimi, e sono andata a fare il controllo, infatti hanno poi cambiato i cerotti, visto che c'erano, e mi hanno detto sì che era normale che fosse uscito l'ematoma dietro, che si sarebbe assorbito, infatti adesso è quasi scomparso, anche due linee di febbre sono normali dopo un'operazione. E quindi mi sono sentita molto sollevata e sono guarita ancora meglio dopo, con questo pensiero in meno. Adesso, quindi dopo tre settimane, ho tolto i punti, ho ancora un po' di crosticine, devo mettere una cremina, la Sunny Plus o una cosa del genere, e massaggiare un pochino quando la metto le cicatrici, che così si ammorbidiscono e guariscono meglio, e andrà sempre meglio. Quindi sono alla fine di tutta questa storia, anche se sono passate solo tre settimane, devo dire di essere molto soddisfatta, perché vi dirò, subito dopo l'operazione già sentivo la caviglia meglio, anche nonostante fossi stata appena operata, la vedevo già più sgonfia di quando era normalmente, cioè pochi giorni prima. Anche la gamba me la sento più normale, non lo so, è una sensazione diversa, più naturale, riesco a muoverla meglio, la caviglia anche riesco a muoverla meglio. Non che non riuscissi a fare tutti i movimenti prima, però noto la differenza dal prima al dopo, e penso che col passare delle settimane andrà sempre meglio, ecco. Quindi sono soddisfatta, sono contenta. Poi sono stata due settimane a casa, che è stato bellissimo, mia mamma è venuta qui ad aiutarmi, è rimasta anche qualche giorno in compagnia, e abbiamo passato due belle settimane. Poi c'erano i gattini che sono sempre stati con me, i nini, da quando sono arrivata, a parte che mi hanno usata tantissimo la gamba, sono sempre stati con me, erano sempre in camera, sul letto, sul tiragraffi, sul tavolo, se io mi spostavo in salotto, venivano in salotto. Oddio, dove mi spostavo io c'erano loro, erano sempre sempre con me, tanto tanto i nini, e se sono guarita velocemente è stato anche per merito loro, e del loro influsso positivo ciccetti. E quindi bene, è stata una bella esperienza devo dire, sono contenta. E adesso riprenderò un po' la vita normale con calma, anche se adesso viene il caldo e mi butta giù il caldo con la fiacca. Bene, e questo è quello che è successo nelle ultime settimane, quindi teniamoci in contatto e vi auguro una buona settimana. Ciao ciao! Ma prima di andare, visto che abbiamo visto pochi gatti, andiamo a salutarli. Ah tu eri fuori e sei uscita da di là, avevo chiuso perché non si sentissero i rumori della strada mentre parlavo. e Bonny ha fatto il giro dall'altra porta, vero ciccetta? Mh, bene. Ma cosa vuoi? Eh? Cosa c'è? Caldo? Dai che oggi pomeriggio accendiamo il condizionatore. Sì accendiamo il condizionatore. Sì, beh, mentre ovviamente Matisse è nel bidet. Salute a tutti dalla tua postazione estiva. Ecco fatto. E qua sono i gattini. Ciao ciao!